salve a tutti siamo qui per l'unboxing del moto x30 pro l'ultimo flagship di casa motorola disponibile unicamente in cina un lancio in europa dovrebbe avvenire con il nome di x30 ultra la confezione del terminale terminale già l'ho aperto naturalmente avete visto già dei video alcune specifiche sulla parte posteriore dopo di che voglio mostrarvi quello che è relativo alle caratteristiche dell'unità 12 gigabyte di ram 256 di storage x30 pro cosa c'era all'interno cosa c'era nulla di importante anche se un gradito ritorno visto che è stato rimosso da tutti il cavetto usb le cuffie non ci sono e c'è un charger da ben 125 watt ok senza che lo finisca di rimuovere avete visto queste sono le specifiche lo smartphone che sta riprendendo è il vivo x70 pro in aggiunta a queste cose c'è anche c'era una cover davvero brutta manualistica e una spilla per rimuovere il vano sim dopodiché c'è il tele che andiamo subito a recuperare terminale questa è la bellissima cover che da bruco diventa farfalla terminale è bellissima davvero una finitura fantastica non è ceramica questo è il modulo camera faccio qualche altro panning perché è davvero bello il display è di tipo corvo questa è la curvatura diamo comparto audio dolby atmos qui pulito mentre sul lato destro il bilancello del volume il tasto di accensione il tasto di accensione è che se riesco a metterlo a fuoco è zigrinato fa un po' di difficoltà a incontrarlo la parte posteriore lo speaker l'ingresso type c per la ricarica dovrebbe esserci anche l'autot video e il vano sigma incendiamo il terminale il terminale ha uno sblocco fulminio qui adesso ho installato lo stesso wallpaper del moto edge l'interfaccia è molto stock ha le classiche customizzazioni motorola questo è tutto fuori fuoco è molto strano non ho installato i play services lo sto utilizzando senza quindi per lo più cinese ho installato due gcam che tuttavia si eseguono girano ma che necessitano di un po' di affinamenti per quanto riguarda le specifiche invece del tablet del terminale che siamo andati proprio rapidamente ok mettiamo a fuoco qui non ci riesce stiamo parlando quindi di eh faticano un poco eh terminale con al bordo l'ultimo stock di casa snapdragon quindi l'otto plus gen 1 12 giga di ram 256 di storaggio per la camera quindi c'è una 200 megapixel f2 una 50 megapixel 2.2 per l'ultra wide e una telefoto da 12 megapixel 1.6 con ottico zoom ottico 2x che arriva massimo fino a 16 davvero ben da attimi risultati quello che ho visto queste altre caratteristiche batteria da testare ancora l'audio del la parte telefonica non lo so perché non non lo utilizzo per chiamare e notevole invece la front camera che è da 60 megapixel f2.2 tre caratteristiche degne di nota il display che è luminosissimo confermo e ha una un elevato rapporto il 91 per cento tra lo schermo e il corpo del terminale quindi andiamo nuovamente a eseguire lo sblocco vedete il fulminio la parte camera facciamo un quick tour sul modulo camera per mostrare le funzioni quindi questa è l'applicazione la google camera questa invece quella stock quindi slow motion video foto ultra res ritratto con tre modalità wide standard e close up davvero carina questa cosa modalità professional e in more ci sono queste modalità aggiuntive per quanto riguarda la camera un po' un Dottor Jekyll e Mr Hyde nel senso che alcune funzioni sono interessanti le caratteristiche cioè i risultati sono discreti tuttavia c'è da dire che anche per esempio per utilizzare la 200 megapixel è necessario che il terminale sia fermo su un treppiedi altrimenti le foto vengono sporcate da un fastidiosissimo micromosso però non è stato rilasciato neanche un aggiornamento firmo e c'è tutto il tempo per migliorare cosa dire soddisfatto? nè per cui non resta che attendere i prossimi sviluppi ah soltanto ad esempio nel caso in cui vogliamo fare un confronto tra questa camera e quella ad esempio del dello Xiaomi cioè decisamente a livello di stile siamo su un altro pianeta con il motorola lo Xiaomi è davvero orribile sulla parte posteriore qui il modulo molto più contenuto molto più bello livello di display non credo ci sia molta differenza francamente tutto qui bene per ora è tutto vi ringrazio per aver guardato il video vi auguro una buona giornata mi 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 mi